eh lo so ma... questo è il filmino di youtube fra vent'anni l'ho trovato ancora lì i vostri figli e i figli e i figli chi l'ha detto questo? chi l'ha detto questo? sei sicuro che possa succedere una cosa del genere? no no perchè avrò tanto filmini vai a cercare Ciociabrena beh vado a cercare, adesso andrò a cercare adesso che ci sono io a cercare una cosa più volentina Ciociabrena? Ciociabrena? e quando ce la metti mi filmo anch'io eh quando ce la metti quando ce la metti e poi dopo si può già vedere lo carico lo carico